Aaaaaaah! Fun! Numbers! Ciu-Ciu! Si, è molto carino. Come un ritorno al passato. Già, molto carino. Amo questo gioco. Oh oh! Umano! Questa sarà la tua ultima e più difficile prova! Osserva il quanto del terrore mortale! Oh no! Un cane! Quando dirò la parola si attiverà completamente e il cannone sparerà. La palla chiodata oscillerà! Le lave taglieranno e ogni cosa si muoverà velocemente su e giù. Solo una piccola possibilità di vittoria ti rimarrà. Papyrus, sei un mostro! Sei pronto? No! Perché io sto per farlo! Quella fiamma è davvero ben animata, molto bella. Guarda il cane sta tipo roteando. Beh, che aspetti? Aspettare? Ma che aspettare? Stavo giusto per attivarlo! Beh, non sembra funzionare molto. Beh, sembrerebbe che in questa sfida sia troppo facile sconfiggere l'umano. Ma non è giusto! No, no, no! Non possiamo usare questi puzzle! Sono uno scheletro con degli standard! I miei rompicapi sono onesti! E le mie trappole sono dannatamente buone! Come il cane! Ma questo metodo è troppo diretto! Totalmente privo di classe! In qualunque modo vada! Ho vinto la sfida! Ding ding! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicezzo su e ovviamente fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti! Rimanete sintonizzati sul nostro canale o magari aggiornati anche su Facebook o Instagram o Telegram! Chissà, forse uscirà un nuovo video mercoledì! Rimanete sintonizzati! Ah, e ricordatevi di condividere il video se vi è piaciuto! E per qualunque consiglio o necessità non esitate a scriverci nella chat privata di Facebook! Ciao ciao! Ciao!